Io ce l'ho, e io per il mio reparto Nella nostra clinica Il direttore non lo è Ma ora, grazie ai miei parrucchieri Ce l'ho anch'io Gira gira, l'hanno comprata a pieni figli Allora credo, e fa proprio quello che dice Comprare visualizzazioni YouTube Tu Sisto ha permesso di ottenere Più su pazio e su visualizzazione Sul mio canale YouTube E' stato veramente affidabile E competente nel proprio lavoro E ti consiglio di affidarvi A loro E volevi Guarda che faccia Guarda che faccia Non se l'aspettava Se non è col blocco roto e le dita Volevo scrivere Ma c'è la cara Ma fatti i cazzi Tuva 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 Tuva